Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo alla sanità. Il sindaco di Gela, Domenico Messinese, chiede le dimissioni del manager dell'azienda sanitaria provinciale Carmelo Iacono per le gravi responsabilità che hanno fatto slittare le coperture finanziarie determinando, dice il primo cittadino giolese, un tetto di spesa inferiore a quella del 2014. Il sindaco di Gela, Domenico Messinese, chiede le dimissioni del manager dell'Asp Carmelo Iacono. Il primo cittadino dice basta. Gli annunci trionfalistici dell'Asp sulla futura attivazione dell'utine della breast unit all'ospedale di Gela, dice Messinese, sono solo un espediente per mascherare il vero fulcro della questione, la tempistica. Nessuno mette in dubbio i diritti acquisiti dall'utenza del Vittorio Emanuele, sostiene il primo cittadino, ma il problema riguarda le gravi responsabilità che hanno fatto slittare le coperture finanziarie. La città di Gela ha bisogno non di parole, ha bisogno di riscontri e noi da molti anni che sentiamo dei proclami che non si concretizzano. È chiaro che per quanto riguarda il discorso dell'utine, io ho avuto nel mese di settembre a Palermo, in una riunione, ho rivendicato che c'erano delle culle che servivano proprio per l'utine depositate all'interno di un magazzino. L'Asp ha detto che in realtà quelle sono culle poste per riserva. Ho chiesto la documentazione e non mi è ancora pervenuta. L'utine per me sta diventando una favola, quindi se permette su questo tipo di discorso ormai preferisco parlare direttamente con il ministro o con altre persone, ma che posso darmi delle risposte che non sono, non la stiamo facendo. Come chiarito da più conferenze dei sindaci con l'assessore alla salute Baldo Gucciardi, sostene messinese, l'Asp di Caltanissetta ha commesso imperdonabili errori nella valutazione economica, determinando un tetto di spesa inferiore a quella del 2014. Solo questo sarebbe sufficiente a provocare con un atto di dignità un passo indietro da parte del manager Carmelo Iacono. In un documento si scrive che sono stati sbagliati i conti economici per un errore proprio da parte dell'Asp. Quindi c'è un documento che attesta questo, è stato palesato, però si doveva porre rimedio e ad oggi non si è fatto questo, con il rischio che vengono a ridursi ulteriormente i servizi già carenti che abbiamo nel nostro territorio. Io vi voglio ricordare che abbiamo fatto un'ispezione, ci siamo resi conto che praticamente mancano problemi sulla manutenzione ordinaria, il personale medico siamo sul 30% e meno, per quanto riguarda il personale infermieristico anche di più, 40% e meno. Quindi una situazione già abbastanza pesante che rischia di essere ulteriormente compromessa perché praticamente c'è stato un errore nel fare i calcoli e questo errore ce lo stiamo portando ancora dietro. L'altra cosa è che nella conferenza dei sindaci questo è stato evidenziato e si doveva porre rimedio con il decreto attuativo, ma ad oggi non c'è nessuna variazione. Maria Assunta, Cattuto, Cate Agulizzi e Graziano Ponzio sono i tre componenti eletti per il collegio dei revisori dei conti del prossimo triennio. Intanto attraverso un comunicato, R7 4.0, sottolinea che siamo orgogliosi di non avere votato nessuna griglia dei componenti di commissione e di non esserci accordati per avere anche noi qualcosa. Abbiamo preferito, si legge nella nota, non partecipare e perdere con dignità facendo prevalere la nostra posizione di correttezza e coerenza. Siamo usciti dall'aula proprio per non votare alcun accordo di spartizione, visto il mortificante teatrino che i consiglieri del PD di Fasulo e Spalleggiati, questa volta dei consiglieri del gruppo di un'altra Gela di Lucio Greco, hanno tenuto tra i banchi consigliari. Nella nota si legge ancora, mai ci saremmo aspettati che il gruppo consigliare dei Cinque Stelle potesse arrivare ad inciuciare e partecipare alla spartizione delle commissioni consigliari con il gruppo di Fasulo e del megafono di Crocetta, che in campagna elettorale avevano definito come il male peggiore per questa città, e soprattutto dopo aver in questi giorni accusato il sindaco messinese ed il suo vice di avere confabulato con vari gruppi consigliari. Reset 4.0 nella nota accoglie l'occasione per augurare ai nuovi revisori dei conti un buon lavoro. Ed il gruppo consigliare del Movimento Cinque Stelle, in merito proprio alle accuse di un presunto accordo stipulato con il Partito Democratico, dichiara che nessun accordo e nessuna alleanza è stata sancita, né verrà mai stabilita da questo gruppo con altri gruppi consigliari. Il lavoro del gruppo si basa sulle proposte e sul confronto, basato sulle singole tematiche, sempre per garantire il rispetto degli obiettivi programmatici del Movimento Cinque Stelle. Le accuse, si legge ancora, sono oltre che infamanti infondate, visto che la griglia consigliare è stata approvata da 21 consiglieri comunali, cosa che dimostra l'assoluta adesione alla griglia da parte della quasi totalità dell'assise civica. Anche Gela oggi ha festeggiato Santa Barbara, patrona della Marina Militare. Una messa è stata celebrata nella Chiesa San Francesco, una ricorrenza, un momento di coesione e condivisione dello spirito di servizio che accomuna tutti gli appartenenti alla Marina Militare italiana. Presenti le autorità civili, militari e religiose. Non vorrei chiamarla festa, visti gli ultimi eventi che ci sono stati in questi giorni, la chiamerei più una ricorrenza, una ricorrenza di una santa, di una donna, che ha immolato, che ha dato la sua vita per la sua libertà. Vorrei paragonare a questo grande sacrificio che ha fatto Santa Barbara col sacrificio di tutte le centinaia di persone che stanno morendo per la nostra libertà. per la libertà e per il libero arbitrio che dobbiamo fare valere in questi giorni particolari. Alla funzione religiosa erano presenti tra gli altri gli ex marinai. Durante l'iniziativa di oggi, ancora una volta, attraverso uno striscione collocato dinanzi alla Chiesa, è stata chiesta la liberazione dei due marò reclusi in India. Come ho fatto l'anno scorso, lo ribadisco ancora quest'anno, anche se purtroppo noto personalmente che i media non ne parlano molto spesso, anche per gli eventi di cui abbiamo parlato poc'anzi. Però Girone e la Torre, ricordiamoci sempre, che sono lontani dalle loro famiglie. Al termine della cerimonia religiosa, i partecipanti si sono recati presso locali della Capitineria di Porto per assistere alla benedizione di un piazzale antistante alla sede delle unità navali della Guardia Costiera, intitolato alla memoria di Fra Rocco Quattrocchi, Frate Cappuccino, scomparso qualche mese addietro. Un mare di opportunità è il titolo dato al ciclo di seminari promosso dal gruppo di azione costiera Unicità del Golfo, formato dai comuni di Gela, Butera, Ricata, Lampedusa e Linosa. Gli incontri sulle occasioni e lo sviluppo del settore della pesca sono tenuti da esperti, studiosi ed amministratori comunali. Oggi, alle 16.30, seminario nella Sala Convegni del Carmine a Licata, saranno presentati gli obiettivi e le azioni del piano di sviluppo locale ed illustrati gli scenari e le opportunità offerte dalla nuova programmazione 2014-2020. Concluderà l'evento una tavola rotonda con la partecipazione di esperti del settore della pesca, rappresentanti delle istituzioni locali e delle organizzazioni di rappresentanza dei pescatori. In una città, e ci riferiamo a Gela, dove i problemi sono all'ordine del giorno, non mancano certo quelli che attanagliano il mondo della scuola. Settore delicato perché è lì che si formano le nuove e future generazioni. Eppure, in un contesto cittadino nel quale non passa giorno che non si registrano manifestazioni di protesta di qualsiasi genere, anche il pianeta scuola è in fibrillazione. Hanno cominciato le mamme degli alunni che frequentano il presso Giovanni XXIII, che hanno inscenato un sit-in dinanzi al palazzo di città per contestare il piano di dimensionamento scolastico redatto dall'amministrazione comunale. Hanno continuato poi con le stesse modalità le lavoratrici della riflessione scolastica per contestare il mancato avvio del servizio di mensa nelle scuole dell'infanzia. Insomma, proteste su proteste in un panorama che sembra improvvisamente esploso, come se tutte assieme le vertenze di questa martoriata città siano arrivate al capolinia. Tutte assieme e tutte improvvisamente. Stasera Agora affronterà la tematica che investe il mondo della scuola gelese. Lo farà con ospiti in studio in rappresentanza della giunta messinese che da metà giugno guida la città e con alcuni dirigenti scolastici di altrettanti istituti cittadini. Appuntamento dunque questa sera a partire dalle 21 su Canale 10 con una nuova puntata di Agora. Cambiamo argomento e adesso occupiamoci delle manifestazioni di Natale promosse a Gela. Assessore, la forza evocativa delle nostre tradizioni esplode prorompente per questo clima di Natale. In un momento storico in cui quasi ci si spaventa a ricordare le nostre tradizioni, noi invece lo ricordiamo con forza. Sì, assolutamente. Le nostre tradizioni sono quelle che ci danno la forza per guardare avanti. Non possiamo, rispetto alle polemiche che ci sono sull'argomento, non possiamo transiggere su questo aspetto. Noi veniamo da lì e da dove veniamo dobbiamo salvaguardarlo e rafforzarlo. Anche lo stesso titolo vuole essere un rafforzativo di questo elemento. Quando Dio nasce io è quello che noi abbiamo voluto e vogliamo proporre. Nella nostra tradizione storica c'è proprio tantissimo legato al Natale. Dalla nanna redda alle filastroche, all'allestimento del presepe. Ringrazio quanti stanno partecipando a questa organizzazione perché rendendosi conto delle difficoltà che noi abbiamo anche nell'attingere a contributi, a finanziamenti, c'è un restringimento delle attese veramente ingommiabile. Io li ringrazio fin da ora. Tutti coloro che hanno voluto partecipare, stanno partecipando, e lo fanno veramente con lo spirito e il desiderio di fare qualcosa per la città. La cosa interessante di questo calendario è che sarà coinvolta tutta la città. Non solo il centro storico ma anche i quartieri cosiddetti di periferia o decentrati. Esatto. Sì, ci saranno mostre di presepi sparsi in città. A cominciare partendo geograficamente dai granai ducali. Poi in San D'Agostino ci sarà una mostra di presepi viventi, ci sarà una mostra di presepi alla chiesa di San Rocco e ci sarà una mostra di presepi fatte dai ragazzi delle scuole alla chiesa di San Biagio. Nella stessa chiesa di San Biagio, prima di questa manifestazione di presepi, ce ne sarà un'altra che invece riguarderà la mostra di artigianato femminile. Novità assoluta a Gela, arriva la pista sul ghiaccio. Ci può spiegare questa pista dove sarà collocata e chi potrà accedere? La pista sarà collocata nel quartiere Cantine Sociali, organizzata dal gruppo Cantine Sociali, con la parocchia anche della zona stessa. La pista è la prima volta che noi veniamo anche a Gela, quindi nelle zone del Gelese o della Sicilia. La pista sarà una misura di 15 per 15, quindi ci sarà una pista di 225 metri quadri circa. All'interno della pista potranno accedere sia adulti, sia bambini, famiglio o quant'altro. Grazie alla volontà dei commercianti, quest'anno Corso Vittorio Emanuele a Gela riuscirà a festeggiare il Natale affidandosi al gruppo Happy Events di Marika Ricci, con ben otto appuntamenti in piazza. Ogni sabato e domenica e anche il 22 e 23 dicembre sono previsti momenti di aggregazione con Elfie, Fate, e Elsa da Frozen, Spider-Man, Giocolieri, Maghi e tanti altri personaggi pronti a regalare zucchero filato, palloncini, caramelle e far giocare i bambini con i laboratori e i big games. Ed ancora stand di trucca bimbi e bancarelle. Primo appuntamento domani e domenica dalle 17.30 alle 21.00. Happy Events sostiene Salvatore Spene, il ragazzo giorese, che è sottoposto ad urgenti cure mediche in Germania dopo aver superato un intervento chirurgico a Milano. Trentasettesima giornata del donatore si terrà domenica 6 dicembre nella sala del Cine Teatro Antidolo di Macchitella a Gela, promossa dall'Adas. Appuntamento alle 16.30. Prevista la presenza di Aldo Ozzino Caligaris, presidente nazionale Fidas, e dei cabarettisti Giulio Amico e Cristian Abbate, meglio conosciuti come fusibili show. Durante la mattinata alle 8.00 nel centro di raccolta fisso di Via degli Appennini 5 si terrà una donazione di sangue alle 10.30 nella chiesetta Regina Pacis, celebrazione della Messa. Soppressione della Corte d'Appello di Caltanissetta, conseguenze e criticità che continuano a preoccupare l'Associazione Nazionale Magistrati, le cui giunte distrettuali di Palermo, Catania, Caltanissetta e Messina si sono riunite lo scorso 14 novembre nel Palazzo di Giustizia di Catania per discutere delle conseguenze che il funzionamento della giustizia subirebbe nel caso in cui dovesse verificarsi l'effettiva soppressione del distretto di Corte d'Appello di Caltanissetta. Ridisegnare la geografia giudiziaria delle Corte d'Appello è stata infatti la proposta avanzata durante l'incontro da parte delle giunte distrettuali delle Corti, in cui hanno inoltre richiesto un vertice con la Commissione Ministeriale preseduta dall'On. Vietti. I punti all'ordine del giorno erano fondamentalmente due. Il primo ha riguardato questa paventata soppressione di qualche Corte d'Appello siciliana, si parla di due Corti d'Appello siciliane e abbiamo ribadito, l'abbiamo già fatto nel novembre del 2014, abbiamo ribadito l'assoluta necessità di valutare quelle che sono le ragioni della specificità giudiziaria della realtà siciliana e ci siamo proposti anche di incontrare la Commissione Ministeriale Preseduta dall'On. Vietti che si è insediata e che ha anche, tra l'altro, lo scopo di ridisegnare la geografia giudiziaria delle Corti d'Appello. Lo vogliamo fare proprio per testimoniare e portare avanti quella che è l'importanza del distretto di Corte d'Appello di Caltanissetta e il rilievo che ha la centralità non solo geografica nel panorama giudiziario. Sicuramente si avrà una drastica riduzione di quelli che sono i presidi di legalità, perché non è solo la Corte d'Appello che verrà soppressa, verranno soppresse anche la direzione distrettuale antimafia, presidio di legalità sul territorio in tema antimafia, verrà soppresso il Tribunale di sorveglianza, altro presidio di legalità per quanto riguarda tutta la fase detentiva dell'esecuzione della pena, verrà soppresso anche il Tribunale e la Procura Minorenni con conseguenze rilevanti per quel territorio che è il territorio gelese, dove è prevalente la forza minorile, la delinquenza minorile e conseguentemente si ridurrà anche quelli che sono gli organi investigativi, quindi la riduzione della squadra mobile di Caltanissetta, del comando provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza. Sono tutte conseguenze che determinano un arretramento in quel processo di controllo del territorio che lo Stato deve avere. E' attiva da alcuni giorni in Via Italia 17 a Gela la sede Punto Unicef. Gli orari di apertura sono i seguenti lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 e giovedì dalle 10 alle 12. I volontari sono a disposizione per qualsiasi offerta da destinare alle famiglie più bisognose. Il gusto sano ed inconfondibile della carne di grande qualità, una tradizione che si rinnova dal 1950 con l'esperienza professionale che caratterizza il succedersi delle generazioni in famiglia e la storia della ditta gelese Caffa Carni. Migliaia di clienti soddisfatti in tutti questi decenni hanno contribuito alla crescita dell'attività, hanno confermato un successo già consolidato e rappresentano una significativa gratificazione per chi con amore, anno dopo anno, ha coltivato e realizzato un sogno, quello di produrre della carne di grande qualità e veder crescere in modo sano e vigoroso i propri affezionati consumatori. Da Caffa Carni tutto ha inizio con la selezione delle razze dei bovini, che successivamente determinerà l'altissima qualità del prodotto pronto per essere venduto ed arrivare in tavola. L'allevamento curato dalla ditta Caffa Carni è esclusivo nel comprensorio e rifornisce il punto vendita di Via Venezia al numero 349. Nel rispetto della natura e dell'ambiente, l'azienda produce a chilometro zero, garantendo il consumo di un prodotto locale di qualità e la filiera corta. Ecco perché insieme alle straordinarie proprietà della carne, il consumatore troverà sempre prezzi contenuti. Tradizione, innovazione, qualità, esperienza professionale e cura per l'ambiente sono alcune delle regole che oramai da anni caratterizzano la produzione di Caffa Carni, senza mai trascurare il vantaggio per il consumatore di portare in tavola prodotti freschi che non hanno viaggiato per giorni, dalle grandi proprietà e a prezzi piccoli. Da Caffa Carni in Via Venezia al numero 349 è così. Giù i prezzi e sulla qualità. Rieccoci, seconda parte del telegiornale. In occasione delle festività del Natale, l'Unitalsi, sotto sezione di Gela, sarà presente domani, domenica, il 12 e 13 dicembre, in Piazza Umberto I, in Via Palazzi, Angolo Via Albania, in Viale Corte Maggiore, nei pressi dei Muretti di Macchitella e davanti alle parrocchie cittadine per la vendita dei presepi di cioccolata. Il ricavato garantirà alla sottosezione di sostenere le varie iniziative e di far vivere dei momenti di condivisione fraterna ai diversamente abili. Studenti del liceo artistico Ettore Maiorana di Gela, diretto da Mirella De Silvestre, oggi in Piazza Umberto I, un'iniziativa sui generis. Gli alunni, così facendo anche tra la gente, hanno manifestato la loro creatività con tere e colori, raccogliendo numerosi consensi. La cosa incuriosisce molto perché non siamo abituati, semplicemente per questo, quindi molti anziani e molti ragazzi anche che si trovano nella piazza per altri motivi si sono avvicinati alla bellezza. Ed è un progetto edilante e dopo oggi vi sposterete in altri siti? Noi abbiamo intenzione di portare i ragazzi intorno alla città e dentro la città ma anche fuori e quindi al mare, nelle bellezze naturali del nostro territorio. Il liceo finalmente si apre al territorio, questa è un'occasione in cui i ragazzi quello che sperimentano normalmente in classe, nei laboratori, lo sperimentano all'aperto, a un plein air. Il nostro liceo dà così il suo piccolo contributo ad aumentare la bellezza della nostra città. Quella di oggi, se vogliamo, ha rappresentato un contatto con il mondo delle arti. Grazie a questa iniziativa riusciamo a scoprire anche cose che non sapevamo di saper fare. Inoltre serve pure per farci conoscere nell'ambito cittadino perché molti ad esempio non sanno che a Gela c'è un liceo artistico da ben cinque anni. Infatti io faccio parte del quinto che saremo la prima classe a diplomarci quest'anno. Perché hai scelto di rappresentare l'elefante? Beh, in realtà un motivo principale ben definito non c'è. Abbiamo deciso di fare una stilizzazione di oggetti naturali per riscoprire nuove forme basandoci sul geometrico. Così noi in classe abbiamo deciso, insieme al professore, di stilizzare la figura dell'elefante che meglio si mostra per dare i volumi, lo stacco tra i volumi, tra il pieno e il vuoto. E abbiamo deciso l'elefante come elemento caratteristico per questo stile, diciamo così. Proseguono gli appuntamenti in occasione dell'81esima stagione concertistica gelese promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. Domenica 6 dicembre alle 19 al Palazzo Pignatelli, concerto del duo Antonella Maria Callea, Flauto e Paolo Alongi alla chitarra. E ora la nostra consueta rubrica in breve. Proseguono a Gela gli appuntamenti inseriti nel programma per la festa dell'Immacolata Concezione prevista per martedì 8 dicembre prossimo. Ogni giorno fino al 7 dicembre nella parrocchia San Francesco d'Assisi sono previste la preghiera del rosario e il canto dello stellario, celebrazione eucaristica e catechesi animata dai giovani e dai gruppi cittadini. Oggi alle 18 è eucaristia con i gruppi famiglia della città e gli araldi del Vangelo e il rinnovo delle promesse matrimoniali. Natale in casa Cupiello. Si tratta del prossimo appuntamento previsto il 12 dicembre alle 17.15 alle 21.15 al Teatro Comunale Eschilo di Gela. Sul palco Enrico Guarneri. La regia è di Antonello Capodici. Per informazioni il botteghino resterà aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20. Per informazioni 0933 91 18 92 oppure 345 58 80 580. Prenderà il VL 15 dicembre prossimo la stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Gianni Nanfa, Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte, Lasciate Libero Lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia. L'abbonamento per assistere a tutti gli spettacoli costerà 50 euro, mentre il singolo biglietto costerà 15 euro. Il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Arriba il grande jazz a Gela, appuntamento al Teatro Comunale Eschilo. Venerdì 11 dicembre Francesco Caffiso in duo con Mauro Schiavone. Giovedì 17 dicembre Antonella Ruggero. Venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro. E venerdì 29 gennaio Fabio Concato. L'inizio degli eventi è previsto per le ore 21. Per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino. Dalle 17 alle 20. Per informazioni bisognerà chiamare i numeri di telefono 0 933 911 892 oppure 345 5880 580. Corri con Papà Natale, sesta edizione. Si terrà il prossimo 12 dicembre alle 9.30 in Piazza Umberto I a Gela. L'iniziativa sportiva è promossa dall'associazione Green Night Sport presieduta da Giuseppe Veletti. Informazioni e iscrizioni al numero 347 57 99 271. Laboratori di gioco mensili rivolti ai bambini dai 5 agli 8 anni li promuove il Sodoptimist International d'Italia Club di Gela. Il primo appuntamento che sarà curato da Paola Rinciani si terrà domenica 6 dicembre dalle 16 alle 18 presso il Museo Archeologico. Il titolo è in fondo al mar. Sono tre in tutto gli incontri mensili. Gli altri due si terranno domenica 13 e domenica 20 dicembre. E 11 donne a Parigi, il film in programmazione al Cineteatro Antitodo di Macchitella a Gela. Sono tre gli orari, vi ricordiamo, 17.30, 19.30 e 21.30. Abbiamo concluso anche per oggi. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.